L'amico Mi piace molto la professione e mi piace insegnare la grafica. Allora mi sono andata in Qatar, mi sono riuscita bene, perché mi sono andata con l'Imane. L'Imane è l'Imane. La questione di Qatar è il multiculturalismo. È impressionante che qui mi esposo e io non siamo la unica pareccia multiculturali, non siamo la unica famiglia multiculturali. Ho pensato che vogliamo mettere il comportamento e il comportamento per farlo di noi e per farlo di noi, per farlo di noi. Iscriviti al canale